buonasera a tutti stasera parleremo dei pesci dell'i drifting praticamente faremo un pochino una una scansione generica di come possiamo affrontare questa tecnica di pesca nel migliore dei modi possibili pronto mi sentite ora sì penso di sì e niente questa tecnica di pesca è estremamente divertente ragazzi perché perché possiamo prendere un po tutti i pesci sono pesci diciamo del che possono essere di natura bentonica che li possiamo prendere a fondo come i saraghi saraghi tanute ed anche altri pesci ma anche pesci che sostano di solito negli strati intermedi del fondo come le occhiate e tanti altri pesci sgombri paramite lampughe tonnetti alletterati e via discorrendo allora come come si può affrontare questa tecnica di pesca innanzitutto bisogna fare una preparazione delle attrezzature che quelle va bene l'avo già ne avevo già riparlato attrezzature che sono costituita da canne di circa 3 4 metri meglio io credo che 3 80 4 4 20 siano se non diciamo le dimensioni esatte e me giuste quelle diciamo quelle ordinarie le dimensioni un po ecco insomma è affrontata un po da tutti ecco e e con queste canne a parte con i mulinelli adeguati per per i pesci dell'idrifty vanno dei mulinelli in genere un 4.000 un 5.000 massimo ecco poi vengono questi mulinelli vengono imbobinati con uno 0.25 o uno 0.22 mm tutto il monofilo super e poi dopo applicheremo la trigirella se se vogliamo fare ecco una lenza senza il galleggiante così diretta proprio con il finale con un amobo con due ami con la trigirella e con il piombo prima della girella da inserire e questo piombo sarà variabile in base alla corrente che noi troveremo dove andremo a pescare allora io ora farò una una scansione e metterò metterò diciamo qualche finale per per vedere diciamo ecco quelli quelli che sono un po più idonei ecco al servizio nostro allora guardiamo un pochino innanzitutto partiamo con questo che è il classico il classico finale diciamo che il pescatore di l'idrifty adotta e poi può essere variato o con l'inserimento del galleggiante qua con le varie oval bed e con lo stopper oppure diciamo senza senza il galleggiante come noi facciamo quando peschiamo con gli sgombri le occhiate tenuti a mezz'acqua secondo ecco diciamo ecco e e questo vedete insomma questo è diciamo il il finale quello classico con il quale si pescano i pesci dell'idrifty sarà un una lenza una lenza diciamo nel appunto come avevo già accennato uno 0 22 uno 0 25 in bobina poi va bene il piombo il piombo che può essere da da 0 5 grammi un grammo un grammo e mezzo due dipende dalla corrente che noi troveremo su questa secca dove noi andremo a prendere questi pesci ecco cioè a prendere a cercare di prenderli poi poi dopo se si prendono meno dipende dipende dalla nostra esperienza da tantissime cose dalle correnti e dalle pasture ora intanto finisco finisco questo argomento sul finale e il finale sarà eccolo qua e questo qui che è costituito da un monofilo un monofilo un monofilo un monofilo un monofilo un fluorocarbo diciamo ecco è meglio un fluorocarbo perché invisibile o perlomeno meno visibile rispetto al monofilo super e questo finale sarà lungo sarà in genere notevolmente più fine rispetto alla lenza madre e partirà da uno 0 14 0 16 0 18 0 20 0 21 fino al massimo a uno 0 22 5 ecco diciamo per i pesci dell'high drifting nel o costiero o il high drifting intrapreso sulle secche a largo praticamente il tutti tutte le sezioni devono essere orientate su questa su mecco su questa linea qui ecco e e poi la lunghezza di questo finale sarà di circa di due metri e mezzo due metri e 80 e ma anche due metri a volte va bene anche quello ecco poi guardiamo guardiamo un pochino ecco ecco dicevo siccome sono diversi di diverse sezioni uno 0 14 0 16 0 18 0 20 lo 0 14 e lo 0 16 conviene rinforzarli farli fare un rinforzino dello 0 20 di circa di circa 5 o 6 centimetri no ci mettiamo due ami dell'anni dell'8 o dell'8 o dell'8 o del 6 o del 4 o del 2 dipende dai pesci che noi troviamo se noi troviamo le occhiate o le tanute ecco necessariamente ci vorranno ami o più piccoli magari anche inseriti in coppia in coppia in serie delle 8 ecco mi va benissimo un rinforzino dello 0 20 e poi tutto lo 0 14 oppure 0 16 però di solito con lo 0,18 con un amo ecco si assolve la funzione richiesta e ora parliamo un attimino anche di come si va su questa secca perché noi ora ipotizziamo di andare in pesca essere armati di tutta l'attrezzatura canne, mulinelli, pasture a base di sardina una cassa di sarde da una mezza cassa e con le sardine noi ci pescheremo faremo dei filetti o dei tocchetti o dei quadrettini oppure anche una mezza sardina ecco proprio dipende da che tipo di prede noi troveremo quella giornata ecco ipotizziamo appunto di essere in pesca, di uscire fuori dal porto ed andare verso la secca allora noi noi che cosa facciamo a questo punto a questo punto noi la primissima cosa è quello di accendere l'eco scandaglio io utilizzo un Amminbird un Elix 10 ce ne ho due ce ne ho anche un Elix 9 mentre l'Elix 9 lo tengo come come praticamente come GPS ecco come GPS primario perché ha lo schermo abbastanza grande e allora mi oriento meglio e mi trovo meglio diciamo i punti che vanno diciamo esplorati molto bene prima però con lo scandaglio con il sonar andiamo ecco questo è l'apparato che io con il quale io lavoro ecco qui in questa scansione qui vediamo che sono circa sui 25 metri sono sono quasi in cima ad una secca e vedo le occhiate le occhiate sono queste qui miste a tanute e anche qualche sgombro anche anche di di taglia abbastanza abbastanza importante per essere sgombri perché sono anche sgombri di 6-700 grammi l'uno cioè 7 anche 800 grammi sono come delle delle palamitelle ecco diciamo per cui per cui sono abbastanza impegnativi sono pesci impegnativi però ecco se lavoriamo oddio se troviamo gli sgombri abbastanza grossi allora mettere uno 0,22,5 perché sennò quelli lì rompano anche se abbiamo canne molto elastiche con dei sottoveri vetta buoni abbastanza elastici con dei vettini ipersensibili riusciamo a contenere il pesce abbastanza bene però se è di 200-300 grammi va bene se no ci vuole ci vuole già con uno 0,21 è già rischioso perché sono grossi tirano quelli allora questo è appunto come già come dicevo è l'apparato con il quale pesco è un hummingbird elixx10 qui sto lavorando con la frequenza chirp ora vi faccio vedere altre altre scansioni allora guardiamo un pochino ecco questa anche questa è una bella scansione ecco qui qui io stavo esplorando la secca praticamente che cosa dovete fare col vostro strumento io 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 mi comporto così lascio tutto ehm diciamo tutte le le funzioni già in già inserite quelle di fabbrica proprio ecco quelle quelle già predefinite poi io io faccio di volta in volta degli aggiornamenti cioè degli aggiustamenti per avere per avere più sensibilità in base a che fondale e poi anche il raggio diciamo cioè la scansione del sonar come deve essere a raggio a baccono stretto eh o a cono largo eh e utilizzando il cirpe invece abbiamo delle frequenze diciamo diciamo in multibanda praticamente sono dei fasci eh di ecco di ultrasuoni che che dalla sonda del nostro ecoscandaglio vanno verso il fondo rimbalzano e ritornano e ritornano su allo strumento il quale poi eh eh ecco eh con l'operazione della 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 trasduzione diciamo in nel nello screen traduce proprio quello che eh quello che si interpone tra tra l'emissione dell'ultrasuono e la risposta insomma ecco del ecco e qui dunque sono in banda cirpe in multibanda perché ecco la prerogativa del multibanda del cirpe rispetto alla al monotono alla banda stretta dei degli scandagli che hanno che hanno sempre la scansione eh 50 200 oppure 83 200 quella in dual band classica praticamente quelli quelli mandano un'emissione unica o a 200 chilo o a o a 83 chilo oppure a 50 chilo mentre il multibanda il cirpe ha ha questa eh questa peculiarità molto interessante in multibanda che permette di da di eh di raggiungere il target e scansionandolo proprio perfettamente nel senso che riesce a separare tra un target e l'altro tra un pesce e l'altro nella sua scansione anche anche di pochi centimetri e si riesce a vedere il bersaglio proprio nettamente distinto tra un pesce e l'altro ecco poi dopo dipende perché perché se diciamo troviamo delle minotaglie piccole di pesce ecco vediamo anche degli agglomerati ecco ecco in questo modo però però già diciamo i pesci interessanti quelli che interessano a noi ehm che ora che vi faccio vedere con con il chirp vengono vengono bene evidenziati un secondo che che vado alla ecco alla scansione ecco questa è una scansione in in chirpe sui 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 16 metri ecco questo qui praticamente potrebbe essere anche un bel sarago queste delle belle occhiate queste invece sono sono delle piccole occhiate miste a castagnole e vedete ecco per queste ecco per queste qui sono le posidonie che si vedano in modo chiaro e ben distinto applicando la funzione del mega di che è una funzione accessoria a queste macchine ecco a queste che hanno che sono mi dotazione dell'elix 7 8 9 10 secondo il modello ecco ora ora non che ci sono ora non che sono sono tutte mincirpe e poi c'è il mega di il con il con il down imaging queste scansioni sono fatte in down imaging e poi c'è anche il side imaging però ora dunque al momento ecco parliamo diciamo del della pesca malai drifty quando vediamo ecco praticamente quando vediamo queste situazioni in cima ad una secca noi ci fermiamo ci fermiamo e cadiamo l'ancora per poter diciamo ecco per repararsi ma la pesca ecco dunque se c'è qualche qualche domanda allora vedo che che ci sono dunque un paio di domande vedo vabbè insomma saluti saluti poi eventualmente ne aspettiamo altre ecco intanto continuiamo la nostra la nostra la nostra diciamo allora dunque ecco praticamente quando noi si giunge sulla secca stiamo dobbiamo stare attenti appunto sulle sulle varie scansioni su quello che ci capita ecco ecco questa scansione per esempio è stata fatta è stata effettuata sui 23 metri ecco qui vedete che il il costo dell'apparato lo strumento lavorava sui su dai 180 ai 240 kilohertz in cirpe ecco è la frequenza stretto in questa nel trasduttore che io ho montato che è un un cosa un un mega di un 2d spectrum che mi dà queste queste belle scansioni ecco vedete io prima di posizionarmi su questa su questa secca ecco ho fatto un giro di esplorazione per vedere ecco ho visto delle occhiate degli sgombri delle delle tanute e ho gettato l'ancora e ho iniziato a pasturare ecco questo questo particolare qui vedete allora questo vuoto qui è denunciato dalla presenza di qualche predatore molto probabilmente su questo fondo qui o potevano essere o de barracuda oppure o qualche sera o anche qualche palamita perché ora non era stato diciamo evidenziato in questo screen molto probabilmente però insomma ecco questa qui è la classica scansione del ecco di quando si parla ai drifti in cima alle secche beh si trova tutta questa mangianza di pesce tra minotaglia e pesci ora ecco intanto se fate se fate qualche domanda eh se fate qualche domanda sul su come si si trovano diciamo ecco questi pesci allora qui vedo una domanda di di maurì eccolo qua aspettate eh allora per chi non ha l'eco come si deve orientare ma io senti se non hai l'eco vai in cima sulle secche cioè o con le mire o ti aiuti con le mire con le classiche mire di come di come noi noi pescatori facevamo un tempo con due punti allineati a terra massimo o meglio con tre punti adeneati a terra andavamo su queste secche memorizzate perché eravamo giovani una memoria spettacolare per cui andavamo a trovare tutti questi scogli tutte queste secche e sopra le quali ecco proprio pescavamo però è tutto così se non hai o senti o vai o con le mire o con la carta nautica ecco sulle carte nautiche in genere sono evidenziati queste secche quelle conosciute quelle diciamo ordinarie poi dopo ci sono degli scogli che cioè anche la C-Map e la Navionic anche le ultime carte carte che hanno insomma sono abbastanza avanzate e ricche però insomma ecco sono a livello generico poi se tu hai uno strumento come come l'elix o come l'elix o come il solix dell'ammingbird ecco vedi che che è dunque tutto un altro mondo ti si apre in un scenario fantastico perché vedi proprio tutti i pesci tutte le secche posidonia scoglio roccia fango tutto vedi capito e allora ti orienti bene ecco quando trovi in B pesci cali l'ancora e poi poi ecco incominci a pescare ecco incominci a pastorare prima nuca incominci a pastorare se vedi secondo che tipo di pesce vedi inizia o col sardamatic e se c'è poco corrente un orrente 0,3 un 0,4 puoi iniziare già col sardamatic e se no anche dei tocchetti di sardina ecco le getti a mano oppure prendi dei pastoratori va a sgancio rapido e le cali a una distanza diciamo intermedia del fondo praticamente là dove tu vedi i pesci ecco allora apri questi questi pastoratori e pasturi e poi intanto armi tutte le canne quello che con i vari calamenti e con i vari finali ecco a teleproposito vi faccio vedere un altro finale che viene utilizzato anche per le panamite allora l'altro finale praticamente è questo è questo qua eccolo qua eccolo qua ecco in questo finale questo è come quello mostrato precedentemente però questo praticamente che cosa fa questo c'è anche il galleggiante ecco e col galleggiante è bene perché in base a dove vediamo i pesci posizioneremo il nostro stopper a una certa distanza e caleremo e caleremo questa lenza eh che naturalmente insomma ci sarà la tricirella vedete la tricirella perché la tricirella perché serve con le varie torsioni di quando cali di quando recuperi praticamente scarica bene tutte le torsioni vedete poi dopo qui c'è la lenza madre che sarà 1.025 e poi dopo con due oval bed diciamo intermedi e con lo stopper vedete uno sui sugli stopper tipi tipo i cosi minacazima insomma ecco ma io io lo faccio semplicemente con del filo in poliestere che viene utilizzato anche dalle sarte oppure da chi cuce ecco gli ami sono 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 due ami o tre ami in serie anche uno però di storia sono due tre ami in serie ecco il finale è composto dallo 0 018 020 021 022 5 il massimo ecco e poi e poi dopo ecco sarà lungo due due metri e mezzo tre metri ci leggete ora qui molto probabilmente però insomma ecco sono circa due metri e mezzo tre metri il finale qui il coso il piombo è variabile sulla trigerella ma anche lì proprio dipende dalle correnti ecco ecco questo diciamo è quello che poi poi con praticamente col con lo scandaglio sempre sempre potete fare altre eh altre scansioni e girare se laddove non non trovate non trovate diciamo i i i i i i i i pesci e niente prendete ritriate sull'ancora e rifate un un'altra scansione ok ma c'è in altre zone ecco andate in altre zone e riprovate sempre sempre con l'ecoscandaglio sempre a girare praticamente e scandagliare esplorare bene bene la secca e e poi e poi calare laddove laddove proprio si si posizionano questi questi pesci ecco questo guardiamo un pochino questa ecco ecco vedete qui 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 dunque siamo dunque siamo circa sui sui 13 metri e qui siamo proprio in cima ad una secca allora si nota che qui c'è un pesce un pesce abbastanza ecco questo qui potrebbe essere o una grossa orata o un dentice non grosso però insomma abbastanza diciamo importante ecco io io in questo screen qui abbiamo posizionato gli ultimi gli ultimi 8 metri da 0 a 8 che praticamente nella schermata primaria quella di destra da 0 da 0 a 15 metri ma a 13 metri da qui a qui praticamente questa scansione qua riguarda questo tratto da qui a qui ecco ecco e queste qui sono 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 tanute tanute occhiate occhiate tanute alcuni saraghi e poi anche un po' di minotaglia minotaglia di fondo guardiamo altri altri screen ecco questi qui ecco questa qui è una è una regolazione di di alcuni pesci sui 25 metri ecco vedete ecco questi qui sono sono pesci anche abbastanza importanti possono essere anche delle belle palamite che si vedono che scorrono che sono posizionate circa circa a 3 o 4 metri dal fondo ecco rappresentate qui e qui sono meglio meglio rappresentate sugli ultimi da 0 a 8 metri vedete qui qui dunque bisogna impostare il blocco del fondale ecco e dare una sensibilità di 11 vedete è posizionata è ben scritta qui e poi dopo ecco ci possano essere se avete delle domande da fare perché siamo già a a 25 minuti io ora mi sono riposto di fare una serie di video dei dei video corsi ecco di circa 20 minuti ecco una mezz'oretta anche perché ho bisogno delle vostre domande ragazzi fate delle domande e io vi rispondo in base a quello che naturalmente sul tema dei pesci dell'idrifty sullo strumento come come va settato diciamo come va regolato l'hummingbird è un grande strumento il rapporto ripeto sempre rapporto qualità prezzo è uno dei migliori strumenti oggi esistenti ha ricevuto anche dei premi negli Stati Uniti tra le migliori tecnologie applicate nel settore dell'elettronica navale l'hummingbird è diciamo al top perché con le sonde dedicate questi strumenti proprio dalla casa madre Ammingbird dando delle prestazioni notevoli e con l'acquisto dello strumento con la sonda dedicata e incluso nel pacco ecco si risparmia rispetto ad altri apparati di altre marche di un buon 35-40% cioè è notevole quindi ragazzi io lo consiglio vivamente perché poi tanto ecco i risultati si vedano e ecco e mi consentono di fare tutte queste robe grazie 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 al mio hummingbird elix ecco scusatemi ecco grazie al mio hummingbird elix poi guardiamo un pochino altre altre cosette ne posso mettere guardiamo un pochino alcune pescate all'idrift miste occhiate tanute palamite tonnetti alletterati di tutto di più eh di tutto di più con questa fantastica tecnica guardiamo un pochino altri screen sull'ecoscandaglio allora guardiamo un pochino che cosa può essere di liberamente interessante abbiamo ecco anche qui siamo qui dunque siamo sopra sopra una secca questo qui tutte 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 occhiate tanute anche boghe purtroppo ci sono anche le boghe ragazzi quello lì è poco ecco e questi qui sono anche pesci abbastanza abbastanza importanti diciamo ecco possono essere anche dei dei piccoli dentici ecco delle ecco a volte anche dai dei dei cosi delle orate insomma si vedono abbastanza bene eh allora guardiamo un pochino io attendo vostre vostri notizie ragazzi formulatemi i vostri quesiti ai quali io risponderò prontamente ecco vedete che occhiate ci sono ecco sulle secche si trovano questi pesci eh cioè insomma ecco questi sono pesci di 3-400 grammi ragazzi insomma per essere occhiate non sono piccole e e se ne prende anche di di 5-600 grammi eh in genere ecco su 3-400 grammi sono sono già pesci diciamo bellini eh come come si suol dire tutte all'i-drifting sardina vinnesco tocchetto mezza sardina mezza sardina sardina intera con 2 con 3 ami ami del 2 eh uno scandaglio buono come l'amminbird elix o solix ecco guardiamo un pochino altre cosette forza ragazzi se no se non fate qualche domanda se no se no ecco questa è un'altra scansione bella ecco qui sono qui dunque sono alcune alcune belle tanute a fondo ecco in parte delle quali prelevate eh allora guardiamo un pochino se vi faccio vedere ecco ecco queste qui quando voi quando voi vi trovate in questa situazione qua eh eh praticamente che cosa dovete fare praticamente prendere il punto appena passate tornate indietro con con la barca eh quando l'avete individuate i bici fermate sopra e poi ci calate con con il light eh sia sia con con il galleggiante eh se vedete se sono quasi sul fondo posizionate lo stopper a circa 22 a 23 metri non proprio sul fondo perché in genere quelle grosse stanno stanno sopra al branco eh sì che ecco ma poi ecco potete agire anche anche a fondo anche col piombo ma su questo qui ne riparleremo poi successivamente eh allora io le cose orientativamente ve le ho dette ragazzi come come il light come si come praticamente come si effettua ecco in queste condizioni praticamente un ecoscandaglio buono sulle secche a mare aperto ehm o anche o anche sui punti cospicui della costa molto incorrentati dove lì ci giungono molti blanchi di pesci come come palamite palamite poi tonite alletterati lampughe ecco tutti questi pesci e poi eh occhiate tanute quelle quelle lì ci sono qualche orata a fondo pasturate e pasturate bene eh con con l'aiuto del del sardamatic oppure o con i pasturatori e questo dipende dalla corrente che voi trovate in loco eh va bene forza ragazzi ditemi fatemi qualche qualche domanda se no io interrompo la trasmissione e la riprenderemo poi con il bocco pagelli con le tanute a fondo o con neurate o con le palamite proprio ecco questi sono i pesci dell'idrifty che che noi che che possiamo trovare su dei fondali misti a Posidonia eh a scoglio scoglio sabbia e Posidonia e ecco da praticamente da 6 a 7 metri fino fino a circa a 26 28 30 metri ecco 30 un 35 metri poi dopo si va si vanno a scorrere senza galleggiante andiamo e allora ecco la cosa deve essere ecco funziona questo giochino o sulle cigliate dei 30 dei 35 metri però bisogna fare un'azione preventiva di pasturazione va bene io io ragazzi vi saluto se è già passato più di 30 minuti 34 minuti vedo e alla prossima cercate di essere numerosi eh guardiamo un pochino eh ecco ora altre domande eh prima di prima di chiudere sempre ecco sempre Maurizio Castrogiovanni conosce la zona di La Spezia sì ho ripescato in quella zona lì però ho con amici così ecco ecco in quella zona io io ecco magari ho pescato bisugarelli pesci così anche perché escluso voi avete la zona del del tino insomma ecco quegli isolotti lì e qualche cosa potete prendere però in quella zona eh diciamo ho pescato solo sugarelli fuori perché ero ero ospite con degli amici però lì dunque non ci sono particolari zone ricche modi secche modi scogli ci sono ci sono alcuni relitti però bisognerebbe conoscerli eh ed andarci però non credo che siano sui 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 su 25 metri ecco questo questo è quello che si vince da allora guardiamo un pochino poi non ce ne sono altri no non ci sono non ci sono altre domande ragazzi e allora io ora chiudo eh va bene allora la prossima sarà molto realmente o ai pacelli o agli sgombri ora ora vediamo eh devo farle altre altre 4 o 5 4 o 5 o 6 forse ora ora vedo va bene ragazzi buonasera e alla prossima salve grazie a tutti Grazie a tutti